Quando io sarò grande, ficcherò la testa in un terchio all'inizio di ogni film e ruggirò. Beh, ora che dite, puttane! Un attimo di attenzione, lui qui è in Monte Core, è il mio leone. Adesso ho un leone. Il tipo del tavolo sette si è lamentato che non c'è abbastanza salsa sulla sua bracciola. Ma davvero, non c'è problema, rimediamo subito. E buon appetito a quel vaterambulante. Sì, abbiamo vinto l'ologeria! Mi comprerò un maggiordomo del pene. Signore. Ok, maggiordomami il pene. Maggiordomalo! Ti voglio bene e ne sono contento. Anch'io ti voglio bene e ne sono contento. Ehi, avete saputo del bambino magico nato a Betlemme? E ora torniamo a Toccato da un angelo. Dimmi, con esattezza, dove ti ha toccato l'angelo? Qui. Andiamo, a chi volete credere? Siete ciechi? Ho anche l'Aureola. Ma è una cosa terribile. La mia giornata è stata anche peggio, mi hanno tirato una nuova forma di pallina di carta. Tirati su, Pintone, era solo una pallina di carta. Sai perché non arriverai da nessuna parte, Brian? Perché tu hai un atteggiamento negativo, come io. Dai, vieni, io. Andiamo a giocare. Non me la sento. Mi dici perché devi essere sempre di cattivo umore? Ho una spina nell'ano. Oh, rabbia. La freddera riserva intende abbassare i tassi, quindi vendete i buoni del tesoro e investite tutto in focacce. Gustose focacce con tanta melassa. Focacce! Comprate focacce! 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 Non tutti si rendono conto che fino al 1928 non c'erano le manichette e che quindi dovevi combattere il fuoco a mani inute. Ora vi do una piccola dimostrazione. Oh, bello tosto il fuocherello, eh? Oh mio Dio, il fuoco ha un fucile! Lasciatelo, accendo io, baby. Wow! Già, ho le dita magiche. Gesù Cristo! Che c'è? Va a prendere la macchina, dobbiamo filare. Cacchio, odio chiamare quelli della pizza. Parlano strano e fanno sempre casino con gli ordini. È come cercare di dare il numero di cellulare alla domestica. Ok, sto aspettando una lettera molto importante, quindi potrebbe per favore chiamarmi quando arriva? Le lascio il cellulare. Ok, sì, nessun problema, mi di il numero. Ok, 4015551125. 4... 4... 4... 0... 440... No, 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 stavo solo ripetendo il 4. Un, 4. Un, 4... Ok, cominciamo da capo. 4, 0, 1... 4... 0... 0... 1... 1... 4, 0, 1... 5, 5, 5, 5... 5, 5, 5... Questo è andato liscio. Ok, 1, 1, 2, 5. 1, 1, 2, 5. Ecco, sì, perfetto, ci siamo. 1, 5, 5. Cosa? Lei ha detto 1, 1, 2, 5. 1, 5, 5. No, 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 non 1, 1 e 2, 5. 2 e 1. 2, 1, 1, 1, 2, 5. Oh, cacchio. Ok, allora, quanti sono di 1? Non le sto dando la quantità dei numeri, le sto dando i numeri. 1, 1, 2, 5. Sono gli ultimi quattro numeri. Ok. 1... 1, 1... 1, 1... 2... 2... E 5. 5. Oh, ho capito. 1, 1, 2, 5. Sì, 1, 1, 2, 5. Ok, adesso mi ripeta il numero. Un momento, prendo la penna.